Antonio Canepa, ucciso a Randazzo in un conflitto a fuoco con i carabinieri, fu il fondatore del Levis, l'esercito volontario indipendentista siciliano. Era l'immediato secondo dopoguerra nella Sicilia già liberata dal 1943, nacque dalla sinistra siciliana, nacque questo esercito che rivendicava l'indipendenza della Sicilia. In questo scenario si inserirono a un certo punto gli agrari e la mafia, nello scenario in cui si parlava del futuro della Sicilia, mentre ancora l'Italia non era del tutto liberata, la liberazione sarebbe avvenuta qualche anno più tardi. A un certo punto il blocco di potere siciliano, la classe dirigente siciliana, che aveva cavalcato questo esercito dei volontari indipendentisti e anzi aveva persino assoldato la banda Giuliano, in questo esercito Giuliano era un colonnello del Levis, a un certo punto optò per un'altra scelta, cioè decise che l'autonomia sarebbe stata meglio del separatismo e quindi trattò con il governo di allora, cioè con il Regno d'Italia, con Umberto II, trattò questa autonomia, quindi l'esercito dei volontari indipendentisti non aveva più senso, venne mollato, vennero mollati tutti i capi separatisti e lo stesso Giuliano si trovò isolatissimo e quindi nacque così l'autonomia siciliana nel 1046, a maggio 46 e mentre la Costituzione italiana sarebbe stata approvata soltanto nel dicembre 47, cioè un anno e mezzo dopo. La Sicilia poteva così godere di un'autonomia molto ampia che poi non ha dato ovviamente i buoni frutti che ci si aspettava data la premessa, cioè fu un'autonomia dettata soltanto da una convenienza di gruppi dirigenti e da istanze di potere.